Un simpatico benvenuto a tutti e abbiamo scoperto che l'episodio precedente ha avuto un problema quindi ci sono un pezzo di saluti che sono tagliati ma pazienza e noi dovremmo tendenzialmente finire di rushare la cosiddetta Magical Crops se non erro poiché siamo arrivati a un buon punto allora noi praticamente adesso qua abbiamo gli 8 gold essence che ho fatto tirare fuori di là dal campo magico con l'harvest e tutto il resto e abbiamo l'extreme infusion stone con l'extreme infusion stone prendiamo l'imperio che non ce ne ho più forse e lo trasformiamo in zvicio quindi dobbiamo fare un attimo un paio di passaggi extra lui serve l'imperio crucio che diventa imperio dove sta? ok non so se basta ma ho pazienza ok abbiamo due di imperio no quanti ne servono di imperio adesso? l'imperio serve per fare cosa che mi sfugge? ok l'imperio l'ho fatto però adesso mi serve no mi serve il tier successivo mi serve lo zvicio per fare il seme del diamante ok quindi mi sto un attimo perdendo penso che basti se no moriremo male penso ok questi qua sono così poi questi qua sono 16 e diventano così ok qua ne abbiamo 6 adesso ok questi qua con 1,2,3,4 questo qui in mezzo no mi sa che sto sbagliando qualcosa no no sto andando in confusione allora aspetta con l'imperio ah no devo per forza averlo zvicio dai cazzo capiamoci no devo averlo zvicio non c'è santo che tenga ok perfetto quindi niente questo qua lo mettiamo via ok siamo temporaneamente mi sa che siamo temporaneamente fermi perché ci serve per forza enormi quantità di coso che ovviamente noi qua non abbiamo è brutta storia allora dunque cosa potremmo fare per risolvere la situazione in un gazzo potremmo provare a vedere se riusciamo a fare questo ok qui siamo al limite se no poi ci si rompe la cosa non possiamo farne altre cioè no potremmo farle ma non poi questi qua così mi sa che non bastano neanche se piangi poi questi qua ne abbiamo otto da otto diventeranno altre due con queste otto sono eh no no ce ne abbiamo soltanto due ce ne siamo altre tante quindi ci serve almeno almeno ancora due stack di minicio che non abbiamo purtroppo quindi ci tocca un attimo aspettare oh finalmente nell'attesa potremmo anche fare questa cosa qua con la turtle allora iniziamo a fare questa cosa qua eh dunque si devo togliermi dei coglioni sto meteorete allora io avevo un metro una volta per caso così a naso eh metro si chiama tape tape che cazzo ho fatto esci da qua e allora fermi tutti t a p e ok questo qua allora vediamo un attimo se c'è allora fermo ok apriti no qua non c'è qua non c'è qua non c'è qua non c'è qua nemmeno qua no eccolo qua mi ricordavo che l'avevo fatto allora dunque scusate andiamo a misurare sto cazzo di meteorete che sembrerebbe essere un cazzo è 17 17 17 no 16 sembra avesse un 16 per penso sia regolare quindi sarà un 16 per 16 no qua c'è un pezzo già in più qua siamo a 17 quindi noi faremo così allora piazziamo la nostra turtle tipo aspettate mi devo mettere sull'incrocio giusto quindi qua lo piazziamo così poi prendiamo una chest che non ho quindi faremo tipo così 1 2 ci craftiamo posso togliere anche questo ci craftiamo il volo scusate il coso allora ci craftiamo una chest e prendiamo del carbone carbone pronto non ce l'ho più ne ho 4 ma ho finito il carbone ma stiamo scherzando allora l'ho lasciato di là magari no questo vabbè prendiamo anche questo ok lì c'era turtle poi ci piazziamo la chest qua sopra e scusate adesso devo andarmi anche a pescare un piccone che li avevo finiti prima di mettermi a fare la magical crops ok almeno adesso si apre ci piazziamo il carbone scusate ci piazziamo 9 di questi e e ci mettiamo excavate 17 che dovrebbe essere la dimensione del meteorite bene arriva in fondo gira dritto perfetto siamo più che a posto ottimo allora la turtle l'abbiamo avviata dobbiamo soltanto ricordarci di non allontanarci troppo adesso perché altrimenti vengono fuori dei casini cioè la turtle si blocca e devo farla ricominciare quindi non posso neanche andare nell'altro mondo a prendere il carbone adesso che mi è venuto in mente però potrei prenderlo dalle sopra ma ammiriamo prima di tutto la turtle in azione visto che in questa stagione non l'avete ancora vista rompere qualcosa 1 2 3 salve skystone cazzo me ne faccio della skystone lo sai soltanto te ok perfetto sarà lunga però tra un po' dovrebbe saltar fuori il coso anzi adesso che siamo qua mi è molto in mente che devo spostare le torce almeno di 1 in fuori dalla ragionazione della l'ho fatto a 17 adesso non so se ho fatto i conti giusti o a cazzo però se no poi inizia a spawnare la merda e non mi sembra il caso ecco si dobbiamo un attimo stare allerta qua adesso perché abbiamo potrebbe spawnare gente visto che la turtle toglie anche le torce ma non possiamo perdere più di tanto tempo allora dunque cosa possiamo fare dunque si dovrei fare dovrei andare avanti con le quest ma no devo cosa si può fare c'è tante di quelle roba da fare che non so anch'io cosa farne stavo pensando no la magical crops devo fermarmi un attimo perché senza la roba qua zivicio cazzate varie non si va avanti poi vediamo un po' come va tutto a posto è sminchio sto meteorite era un lato da 16 e una 17 vabbè azienda vediamo un po' anche appunto come va ok perfetto ha ancora 4 ma noi guarda nel dubbio facciamo così gli mettiamo già il rinforzino non mi picchiare grazie ecco adesso adesso iniziano a venire fuori gli stronzi eh già devo stare molto vicino altrimenti verranno fuori una brancata di stronzi cosa possiamo fare scusi Tartol per favore scusi una domanda un'intervista per la stampa grazie con sta cazzo di Skystone che cosa minchia gli faccio scusate ah la Skystone chest la Skystone ne slab ah la Skystone dust potrebbe essere utile carina eh altro sennò c'è la Skystone block che non ci faccio assolutamente niente eh pepepe cosa ci faccio d'altro eh Skystone block chest no chi se ne frega e altrimenti c'avevo un altro crafting che era quello del ne ho visto un altro ah della Skystone dust che la uso per niente no sembra che non sia utilizzabile che palle sti cazzo di di dix rosse che vengono fuori sono molto 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 pericolose purtroppo ci vorrà un po niente ho fatto un episodio un po a cazzo grazie per avermi spinto giù Tartle puttana Eva sperando che non spawni troppa gente io mi devo avvicinare tantissimo al punto x e niente adesso vorrei aiutare la Tartle ma senza piccone di diamante non si riesce perché questa Skystone è dura come la morte e quindi niente niente scusate devo pensavo di riuscire a fare qualcosa in questo episodio ma è un episodio farlocco quindi niente devo per forza aspettare che la Tartle finisca così almeno mi libero quest'area e rimetto le torce così non spuona gente niente io sto un attimo qui in mezzo ad aspettare la Tartle e scusate per l'episodio un po' floscio però purtroppo sono inconvenienti del mestiere un saluto a tutti alla prossima e dovremmo essere vagamente in grado di fare l'ultimo racione della adesso mi viene in mente della Skystone perché ce l'ho davanti ma è della Magical Crops quindi niente un saluto a tutti alla prossima e speriamo di chiudere l'episodio in modo decente e non con l'errore di prima cioè dell'altra volta ok dovremmo farcela ciao ciao perfetto